Un abbraccio forte. Subitissimo la parola al Don. Don Antonio, ciao, buongiorno. Ciao, Peppa. Ciao, ciao, ciao. Stamattina sono una persona seria. Ho visto che ho parlato di democrazia e io in qualche maniera faccio una riflessione che c'entra. Sia la gioia che le lacrime sgorgano dallo stesso pozzo. Sia la gioia che le lacrime sgorgano dallo stesso pozzo. Hai capito bene, Ciccio? Sì, è il pozzo della vita. È dallo stesso pozzo. Forte e chiaro. Speriamo che il pozzo sia a Via L'Acqua Sano, se no c'è una rovina. Esatto. Ciao, 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 ciao. Ciao Don, però sta anche a noi pescare bene nei pozzi o almeno sceglierci i pozzi in coscienza. Grazie, veramente. Un abbraccio a Don Antonio Mazzi come sempre. C'è Raffa. Meravigliosa la sua. Un grande salto.